Cari amici, cari concittadini, sono contento di essere inondato dalle vostre segnalazioni. Ne ricevo almeno un 20-25 al giorno. Cerco di accontentare tutti, di dare spazio appunto ai vostri video, alle vostre foto che rappresentano le gravi criticità, soprattutto inerenti alla invivibilità urbana. Voglio farvi vedere delle immagini che vi sono arrivate da Talzano, precisamente via Umberto I. Guardate, il buio assoluto, qualcosa di pauroso. L'immagine è certamente spettrale. Devo dire, meno male che ci sono i negozi e le insegne pubblicitarie che danno un minimo, dico un minimo, di luce, altrimenti davvero qualcosa di pauroso. Beh, soprattutto d'inverno, poi col fatto che le giornate si accorciano, la luce durante il giorno, le ore di luce appunto si accorciano sensibilmente. Beh, penso ai rischi che corrono i pedoni attraversando queste strade, gli automobilisti, ma i rischi anche per l'aumento di episodi di criminalità, perché ovviamente il buio rappresenta come dire il terreno fertile, tra virgolette, perché certi eventi, anche lo scippo, magari episodi di microcriminalità, che però vengono appunto favoriti, la loro dinamica viene favorita dal buio. Sono davvero abilito, come lo sono i cittadini, perché da un lato vedo le favole, le chiacchiere che racconta Melucci, parla, stiamo seminando la rinascita, parla di Taranto città europea, il meglio viene adesso. Questo ci prende letteralmente per il culo. Io non so se questo è proprio così, o è o ci fa. Un fatto è sicuro, è una presa per il culo quella che stiamo subendo. Ogni momento, ogni momento subiamo prese per il culo, perché da un lato questo ci racconta, ci parla di una Taranto diversa, una Taranto virtuale, una Taranto che è solo nella sua fantasia, che cozza terribilmente con queste immagini, con questo buio, con questo degrado. Sembrano immagini del terzo mondo, di qualche paese, di qualche contrada sperduta, abbandonata da Dio e dagli uomini. E invece Taranto, la nostra Taranto, disgraziatamente è infelicemente amministrata da questa compagnia di dilettanti politico-amministrativi guidati da Rinaldo Melucci. Il buio delle immagini che vi stiamo facendo vedere rappresenta davvero il buio il nulla cosmico di questa amministrazione.